Un rivoluzionario del teatro italiano, Paolo Poli, nato nel 1929 e scomparso nel 2016, che ha inventato la forma del teatro, la prima e unica nel nostro paese, quella del travestimento, coniugando la grande letteratura alla canzone popolare. Pino Strabioli, prima nel libro omonimo e poi sul palco, racconta le sue emozioni e la vita, quella di un uomo e di un artista libero e innovatore, come era Poli, ed il rapporto d'amicizia che li legava. Non solo un omaggio a un importante artista della storia culturale del nostro paese, ma lo spettacolo è un mezzo per far conoscere alle nuove generazioni Paolo Poli. Io avevo un particolare rapporto di grande amicizia con Paolo, perché da sempre da ragazzo ero affascinato da lui e dalla sua figura, per cui ho avuto la fortuna di salire sul palcoscenico con lui, abbiamo fatto insieme i viaggi di Gulliver, poi di fare un programma televisivo sui vizi capitali e alla fine gli ho detto Paolo incontriamoci, mi racconti un po' della tua vita, lui ha accettato e registravo, poi sbobbinavo, gli facevo leggere le cose che avevo scritto e alla fine mi ha detto, vabbè, pubblicalo. È stato un atto molto generoso da parte di Paolo, che Rizzoli ha pubblicato questo libro che si chiama appunto Sempre fiori, mai un fioraio. Le nuove generazioni magari non ricordano Paolo Poli, in molti teatri Paolo poi non andavano, perché è stato veramente quasi, non dico censurato fino alla fine, ma appunto è un atto al suo coraggio, alla bellezza di quanto ci ha lasciato. La narrazione è scandita dalla musica della fisarmonica del maestro Marcello Fiorini. Soddisfatti il direttore artistico Gian Domenico Sale e l'amministrazione comunale per questa seconda stagione teatrale che ha riscosso già lo scorso anno un grande successo. Sono molto felice di aprire con Pino Strabioli, perché a parte un rapporto di amicizia, ma è comunque un grande artista, un grande professionista. In particolare per la tematica che tratta, insomma, fare uno spettacolo di Paolo Poli, per me ci tenevo molto, anche perché quando ho iniziato a curare stagioni teatrali avevo contattato anche Paolo Poli per, girava con Pascoli al tempo, però purtroppo poi ha dovuto rifiutare perché aveva smesso di, non se la sentiva di riprendere la stagione teatrale successiva, quindi è saltato. Quindi per me è anche un omaggio che anche io faccio a Paolo Poli. Il nostro obiettivo principale è quello di far sì che Larino diventi la culla della cultura, forse un po' lo è già. Devo dire che grazie non solo all'amministrazione, ma a tutte le associazioni che per diverse motivazioni organizzano tante cose nella nostra città, devo dire che noi qui non ci fermiamo mai. Ogni due o tre mesi abbiamo sempre degli eventi che portano tanti turisti qui nella nostra città, sempre eventi di grande livello culturale.